Buona buona bocca, ti sta mangiando, è incredibile, ti sta mangiando, si fa molto male, fammi sentire, non so se si riesce ancora a dare la bocca, spostalo, schiaccialo, mi sta facendo molto male, vedi? Ecco, tieni un altro, dai, amore, mi piace, così la posso finire, si deve piacere, è vero, guarda, sto mangiando, guarda, guarda la bocca, filma la bocca, guarda, vedi com'è, alpa è morsica, non riesco a metterla a fuoco, alzati un po', sai che siamo lì, non riesco mica a metterla a fuoco, Oh, no no no, aspetta, quella è la mia pelle, amore, mi sento bene, aia, bacca, Perché ha fame o perché ha arrabbiato? No, è perché ha fame, vuole mangiare, ha arrabbiato per cosa? Eh, che l'abbiamo toccato, era lì già agitato, si vede che è caduto, vieni piccolino, ma ma che piccolino, dai, lasciano lì, Cosa che è piccolino, provo il tempo, no, non ci ha mangiato tutto il bassino, Ok, sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.